E' una gara particolare rispetto agli altri, però è una partita dove comunque cercheremo di dare il massimo e di puntare alla vittoria. Il recente passato che torna a farti visita è quello che rappresenta la team Altamura per Carlo Clemente, centrocampista della Fidelisandria, nato proprio ad Altamura e protagonista con i Murgiani nel gruppo H della Serie D 2018-19. Per il classe 98 l'incrocio con la formazione guidata da Alessandro Monticciolo è speciale e il diretto interessato non lo nasconde. E' una squadra in forma, sappiamo che è una grande squadra, gioca bene, ha degli ottimi calciatori, un buon allenatore, poi sarà una bella partita perché comunque sono contento di trovare tanti amici che ho lasciato a punta d'altra mura. Alle spalle c'è un'altra sfida interna, lo 0-0 contro il Nardò in cui la Fidelis ha confermato la sua solidità difensiva ma anche palesato una certa difficoltà nell'arrivare davanti al portiere avversario attestata dai tre gol nelle ultime quattro gare di campionato. Alla fine un punto è meglio di zero, quindi se non si riesce a portare a casa la vittoria il pareggio è sempre meglio dalla sconfitta. Arrivato ad Andria nella sosta natalizia Clemente si è sinqui reso utile a gara in corso sempre a destra, prima contro il Gravina e poi appunto contro il Nardò. D'utilità è la parola d'ordine del calciatore che ha all'attivo anche 18 presenze in C con la casertana. La mia posizione preferita è a centrocampo ma anche in difesa, poi il mister decide lui dove farmi giocare, sono a completa disposizione del mister appunto. Testa la team Altamura allora formazione che con il 2-0 Alfasano è salita in seconda posizione, la Fidelis vuole però dare continuità a una marcia che vede Manzo e Soci imbattuti da ben sei gare. Sarà una gara difficile perché appunto è un'ottima squadra, lo sta dimostrando, è al secondo posto in classifica, sta facendo tanti risultati positivi e noi stiamo preparando al meglio, stiamo lavorando bene con il mister, stiamo preparando al massimo durante la settimana e speriamo che, anzi speriamo, deve andare bene. Grazie. Grazie. Grazie.